salve a tutti innanzitutto benvenuti bentornati come sempre vi invito a iscrivervi lasciano like condividere commentare sapete che cosa mi dà particolarmente fastidio i venditori porta a porta parlo con cognizione di causa perché la mia carriera nel 1996 come venditore è partita proprio con il porta a porta per una nota azienda di libri però mi sembra che stia diventando sempre più aggressiva qualche giorno fa era domenica a casa bussano in piena mattinata erano intorno le 10 non erano i testimoni di geova non erano venditori porta a porta canonici chiamiamoli così ma addirittura vengo a scoprire perché tramite gruppi della zona dove abito e altro agenti immobiliari ora non so di quale agenzie immobiliare fossero ma di domenica mattina alle 10 a scampanellare nel palazzo anche no d'accordo questa è la prima cosa la seconda cosa è chiariamo un pochettino l'attività di porta a porta non significa che una volta che si è entrati nel condominio si è liberi di fare quello che si vuole d'accordo innanzitutto per entrare in un condominio svolgere un'attività di porta a porta l'entrare nel condominio è finalizzato ad andare presso qualcuno con cui si ha un appuntamento se poi si vuole fare quello che è un giro all'interno del palazzo beh io consiglio ai venditori porta a porta andateci con una referenza ovvero da chi siete già andati come chiamiamolo biglietto da visita per poter ripresentare quando qualcuno nel condominio vi chiede chi siete cosa state facendo abbassate un pochettino il livello di arroganza perché venditori porta a porta sono abbastanza arroganti abbassate il livello di arroganza e dite chi siete e non cominciate anche a sparare delle cose che non esistono qualificatevi per quello che siete è la miglior arma anzi date biglietti da visita perché il biglietto da visita è una referenza è un'arma in più nel bene e nel male dopodiché il lavoro di venditore porta a porta rappresentante è veramente complicato è veramente difficile però non si entra nei palazzi senza autorizzazione non si scampanella in giro così e soprattutto la domenica la domenica è un giorno un po di riposo d'accordo dovrebbe essere un giorno di riposo anche per voi